Ho ascoltato che lei è poetessa, attrice teatrale. Si sente più poetessa o attrice teatrale? Visto che ha fatto tante cose sia a teatro che in commento. Sicuramente mi sento più poetessa, un po' perché mi ha preso molto la passione. Scrivevo dalla mia scienza, però diciamo che da qualche mese sto anche partecipando a qualche cosa. E quindi mi fa questa piacere. E adesso cosa ci dà ascoltare? Allora, ho portato due tipiche. Una in dialetto, a parte dell'angolo napoletano, sì, con l'angolo strato e tutto. E poi l'altra sulla strada di ricordi che è molto intuosabitabile. Teresa Esposto. Grazie.